La patrona di Cirignola, Maria Santissima de Ripalta, è ritornata nel santuario diocesano sulla riva dell'Ofanto. L'inizio era avvenuto nella mattinata, quando alle 5 del mattino c'è stata la messa preseduta dal vescovo della diocese di Cirignola, Ascoli Satriano, Monsignor Felice di Molfetta, attuale amministratore apostolico. Poi l'uscita dalla cattedrale un'ora dopo e all'inizio della processione, che si è snodata tra Piazza Castello e il piano San Rocco, fino ad arrivare, con una sosta di un quarto d'ora, presso la scuola media Paulillo. Poi è cominciato il percorso verso il santuario diocesano, con l'arrivo prima alle Pozzelle, poi alla Salve Regina e al santuario poco prima delle 14, dove poi è stata celebrata la messa dal vicario generale Don Carmine la Dogana. Adesso l'icona riposerà tranquillamente, in attesa di ritornare in città in estate. Mimmo Siena, speciale news, dal percorso della Madonna di Ripalta, Cirignola.